Buonasera, stasera siamo un po' di amici, parleremo di un tema che è piuttosto importante, che è quello che riguarda la svendita, io lo chiamo svendita, poi qualcuno magari non sarà d'accordo con me, ma la perdita così di molto del nostro patrimonio industriale, una sorta di vendita continua, soprattutto a grandi società estere, insomma questo è un tema di cui si parla poco, ma che è molto sentito e quindi ho pensato che comunque al nostro rientro dalle vacanze sarebbe stato il caso di parlarne, quindi stasera siamo un po' di amici che appartengono anche a mentalità e storie molto diverse tra loro, per cui sarà interessante il dibattito, cercheremo di renderlo interessante. Vorrei partire Giulio per favore con il video che riguarda proprio l'argomento trattato da una persona con la quale qualcuno di noi magari non è d'accordo, però che dice delle cose interessanti che è Carlo Calenda, lo puoi mandare per favore il video? Grazie Giulio. Comau è un'azienda che ha 50 anni pensate e si occupa di automazione, è una grande utilizzatrice di Industria 4.0, è un grande patrimonio industriale dell'Italia. Questo patrimonio industriale dell'Italia Stellantis ha deciso di venderlo a un fondo americano. La storia è molto simile a quella che abbiamo visto di Magneti e Marelli, sono fondi che comprano a leva, cioè indebitando la società, estraendone tutti i benefici e danneggiandoli. Comau fattura nel mondo 1.100 miliardi, ma in Italia molto poco, fatturava 200 milioni e è arrivata a 160 milioni e dunque già in atto. Una delocalizzazione massiccia dell'Italia. Io penso che questa cosa non è accettabile. Non credo che sia accettabile continuare a svendere, a far distruggere gioielli dell'industria italiana che sono importanti non solo per l'occupazione che generano, ma per tutto quello che deriva dalla loro capacità innovativa. Credo dunque che il governo debba applicare il Golden Power. Lo può applicare perché io ho fatto una norma che stendeva l'utilizzo anche alla tecnologia, all'automazione. Lo può applicare perché è una società, un fondo di investimento americano. Lo deve fare per non ripetere Magneti e Marelli e lo deve fare anche perché, francamente, il modo in cui Stellantis si sta relazionando con l'Italia è ignominioso. Il governo non è stato neanche avvertito sul Comau. La produzione Stellantis globale, diciamo, di tutti gli autoveicoli è scesa del 25%. Questo vuol dire che rispetto al periodo di Marchionna è la metà. Non possiamo andare avanti in questo modo perché le aziende sono posti di lavoro, know-how, sistema paese e se noi non consideriamo l'impatto sociale, culturale e innovativo che ha un'azienda e pensiamo che sia solamente un asset che può essere spostato da un posto all'altro, depredato dai brevetti, chiuso, noi ripetiamo gli errori che in questi 30 anni hanno portato non solo all'impoverimento della classe media, ma a dare la sensazione che per i grandi capitalisti tutto sia possibile e niente debba essere regolato. E non è così, neanche per un liberale, perché nessun liberale vede il mercato come se fosse un dogma assoluto. Allora in questa vicenda di Comau c'è molto in gioco, molto più di quello che si possa immaginare. Eccoci, avete sentito? C'è qualcosa che sta facendo? Allora il tema è interessante perché Calenda parla proprio del concetto liberale, di libero mercato, stato minimo e anche però di una condizione nella quale il rischio è che ci siano i grandi capitali che entrano a gamba tesa e si appropriano di quelli che sono i nostri patrimoni industriali. Allora io inizierei così. Alberto, che cosa ne pensi? Non so se si è sentito bene il video, ma mi sembrava piuttosto chiaro. Che cosa ne pensi di questo problema? Da liberale credo, no? Che sia un po' questa la tua appartenenza, almeno ideale, se non ideologica. Beh, certo sì, io appartengo a quell'area sin da quando ero ragazzo, quindi ero molto vicino alla geometria liberale negli anni settanta e quindi vengo da quella da quell'esperienza. Negli anni devo dire che come liberale mi sono sempre più radicalizzato, nel senso che mi sono sempre più portato verso una concezione abbastanza, oggi verrebbe definita estremista, del liberalismo, quindi mi sono avvicinato molto al liberismo economico e con diciamo qualche sfumatura anche di anarcho-capitalismo, per quanto mi riguarda. Questo per collocarmi, tra virgolette, ideologicamente. Ma io non vorrei essere, come dire, tacciato di essere troppo sospettoso. Io, quello che proviene da Carlo Calenda, soprattutto negli ultimi sette, otto, dieci anni, tendo molto a, come dire, guardarlo attraverso delle lenti che spesso, come dire, mi portano ad essere completamente oggettivo. Quindi faccio questa premessa proprio con questo intento. Io credo che il problema Alberto, perdonami se ti interrompo un secondo perché vedo solo a metà. Ecco, perfetto, così sei perfetto. Scusami, vai qui. Allora, io credo che il tema della vendita dei cosetti gioielli di famiglia sia un tema importante perché comunque, pur collocandomi nell'area liberale, diciamo, come dicevo, anche abbastanza vicino all'anarco-capitalismo, non di meno sono mediamente un miniarchico, no? Sostanzialmente uno che crede allo Stato minimo, ma veramente minimo, non come crede Calenda. Però non di meno mi rendo conto che proprio perché uno Stato in qualche modo ci deve essere, questo Stato debba anche essere capace di esercitare le sue prerogative quando l'interesse di quello Stato e dei cittadini che in quello Stato vivono, sotto la sovranità di quello Stato, quando il loro benessere può essere in qualche modo messo in pericolo. E tra questo ci sta anche la possibilità di esercitare la Golden Power. Detto questo, ripeto, severamente, io però osservo anche questo, spesso in queste circostanze si tende a porre l'accento su alcune realtà industriali che sono pur importanti, ma poi si perde l'insieme della nostra economia. La nostra economia ha sofferto tantissimo negli ultimi 15-20 anni, in particolare 12-13 anni. Abbiamo assistito a dei cambiamenti e a delle morie di aziende che nel loro complesso magari sono stati ben più importanti della perdita di un singolo campione quale può essere Comau. Attenzione, non è l'unico campione dell'automazione che abbiamo in Italia. Ci sono realtà private che molti non conoscono, che in quel settore sono fortissime e che non hanno nulla da invidiare a Comau. Quindi, bene porsi il problema di Comau, ma soprattutto non perdere, diciamo, l'attenzione verso l'insieme della nostra economia, che ha sofferto tantissimo negli ultimi anni e abbiamo, ripeto, perso fette importanti di mercato in tanti settori. Magari con una politica più accorta e magari più vicina ai principi liberali, più rispondente ai principi liberali, avrebbe potuto consentire ad oggi di non porsi neanche il problema di Comau, perché Comau sarebbe stato uno dei tanti campioni dell'industria italiana, che invece magari non si sono sviluppati in tutti questi anni a causa dei noti problemi che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora. Questo è il mio commento. Bene, ti ringrazio Alberto. Poi ci torniamo. Massimo, qual è il tuo punto di vista rispetto a questa problematica? Anche perché sei stato tu uno di quelli che ha più sollecitato questo dibattito, cosa ne pensi? Io sono in disaccordo con quello che ha appena detto Alberto, chiaramente veniamo da due percorsi diversi per cui questo anche è chiaramente una giustificazione di questo disaccordo. Io quello che vedo è che il capitalismo, il libero mercato in realtà non funziona e che lo Stato debba, come dice la nostra Costituzione, regolarlo. Questo perché l'abbiamo visto con lo smembermento che c'è stato dell'Irio, con l'ultima operazione per esempio di Team. Cioè noi prendiamo delle aziende che sono strategiche, sia per la sicurezza economica che militare e le svendiamo a dei fondi stranieri. E questo facendo anche degli accordi che sono al limite del ridicolo. Prendete Team, ce l'abbiamo venduta a circa 22 miliardi e nello stesso tempo però riaffittiamo le infrastrutture, che sono una parte strategica, perché non riguardano il servizio, sono proprio l'infrastruttura e le riaffittiamo a 2 miliardi l'anno. Cioè sarebbe come dire che una persona vende il suo appartamento che vale diciamo 300 mila euro con l'accordo di riaffittarlo a 30 mila euro l'anno. Ora non so come voi chiamereste una persona che fa una cosa del genere, ma io come minimo la chiamerei ingenua. Pensate anche alla storia della Fiat. C'era uno studio di Feder Contribuenti, se non sbaglio, del 2012, che dimostrava che Fiat aveva incamerato tra sussidi, cassa integrazione, rottamazioni eccetera, 220 miliardi di euro in 37 anni. Allora a questo punto voglio avvicinarmi un po' al percorso di Alberto, quindi parliamo di liberismo. Per i liberali il debito pubblico è un vero debito, perché lo Stato funziona come una famiglia, funziona come un'azienda. C'ha questi 220 miliardi, quindi noi dobbiamo anche sommare gli interessi che abbiamo pagato in tutti questi anni, fino ad oggi, per questi tipi di sovvenzioni alla Fiat. E tutto questo lo facciamo per ottenere un risultato che qual è? È quello di aver prodotto negli anni passati due milioni di auto al top della produzione Fiat. E ora siamo arrivati a circa 400 mila. E in più Tavares ci minaccia anche che se noi gli diamo altre miliardate di euro se ne va via dall'Italia e chiude tutto. Ora capite che questo non è uno Stato che fa l'interesse del popolo italiano. Sono governanti che si fanno assolutamente, non a bindolare, ma fanno degli accordi evidentemente personali, e la questione delle porte girevoli ci porta a pensare questo, per distruggere quello che è il tessuto economico italiano, non so se a favore della Francia, della Germania, per altri accordi, ma comunque sia non certo per portare avanti gli interessi dell'Italia. Di esempi ne possiamo fare N, cioè KKR che ha comprato Team, aveva comprato anche Marelli, aveva comprato altre aziende, non so, del Fiber Group, eccetera. Quindi nel tempo ci ha portato via un sacco di asset per fare semplicemente speculazione. E quando fanno questa speculazione, questo anche i liberali lo sanno, che cosa fanno questi fondi? Prendono le aziende, tendenzialmente devono essere delle aziende sane, perché questi fondi sono specializzati in quello che si chiama Leverage Buyout, ok? Per cui praticamente cosa fanno? Si fanno finanziare dalle banche, mettendo a garanzia i cespiti delle aziende che vanno ad acquisire i prestiti che fanno, ok? Quindi fanno leva su questo tipo di prestiti. E poi per rivenderle in breve tempo, facendoci un guadagno, che cosa fanno? Cominciano a licenziare, ok? Non perché non fanno più le cose, licenziano i dipendenti e magari prendono dei consulenti, perché in questa maniera a livello di audit l'azienda diventa, tra virgolette, scusate, più sana, ok? E riescono a rivenderla meglio. Cioè noi stiamo... Massimo, sì, scusami eh se ti interrompo, ma se no vedo che il tempo passa e invece volevo sentire tutti, quindi volevo... Ecco, magari ci torniamo anche dopo perché ho fatto un discorso dove ci sono un sacco di spunti interessanti. Non vedo, non vedo Fabio, non so se ci sia, perché se c'è... Alberto sei mutato? Ah, ok, va bene. Se riesci... Fabio può parlare tramite il mio dispositivo perché con il suo ha dei problemi. Perfetto. Fabio, ciao, che lo si guardi da un punto di vista, ripeto, keynesiano, liberale o quello turbocapitalista, come volete. Insomma, secondo me, dal punto di vista dell'Italia, questo è un problema. Qual è la tua eventuale soluzione? La stessa domanda poi la farò anche a Fabio. Qual è la tua soluzione? Cosa faresti tu? Sì. Allora, io ho apprezzato un passaggio di quello che ha detto Alberto, quando ha detto che effettivamente è uno Stato, anche se, insomma, nella sua visione della sua storia, insomma, comunque deve essere uno Stato che, anche se ridotto ai minimi termini, però deve avere quei minimi poteri, cioè quelle sue leve di competenza, verso le quali riesce a essere funzionante. Alberto ha parlato di interesse, cioè di essere funzionante per fare in modo di tutelare l'interesse generale. È un'espressione interesse generale, vi lo filosofico, che io non amo molto, perché interesse significa tutto e niente, anche il negativo può essere l'interesse dello Stato. Però lo Stato, in quanto tale, non parlo da post-kenesiano, parlo da statista, cioè da esperto e studioso dello Stato, in quanto tale non deve pensare all'interesse generale, deve pensare al bene comune, che è una cosa ben diversa. Cioè lo Stato deve pensare al bene della popolazione. Per cui, per riuscire a funzionare, uno Stato deve necessariamente avere le sue leve di competenza, anche dette, insomma, il potere d'imperio dello Stato, cioè ciò che gli permette di esistere sostanzialmente e di far funzionare i meccanismi attraverso i quali riesce a tutelare lo Stato di diritto, i servizi fondamentali, eccetera. Quindi devi avere certe leve, devi avere certi poteri, necessariamente, che non sono soltanto quello legislativo, giudiziario e esecutivo. Sono anche altri poteri che sono quelli, per esempio, di riuscire ad avere un certo margine di manovra a livello economico. Perché? Perché i soldi li stampa lo Stato e in qualche modo lo Stato deve riuscire a investirli in maniera corretta. Cioè, riuscire a farlo, non in maniera corretta, riuscire a farlo. Quindi è chiaro che devi avere una proiezione economica, la spesa pubblica, tanto per capirci, e lì deve essere il padrone assoluto da quel punto di vista. Cioè, devi riuscire a gestirsi in modo da garantire i servizi essenziali, però devono essere statali quei servizi essenziali, non possono essere privati. Cioè, per esempio, la sanità. Ok, faccio un esempio che comprende tutti. La sanità è un bene, diciamo, che è tutto un ambiente, dal vero farmaceutico, a livello proprio di ospedali e di prestazioni sanitarie, che non può essere in mano ai privati. Cioè, non ci può essere margine di profetto sulla salute. Non deve esistere. Lo Stato dovrebbe, anzi deve in quanto tale, in quanto Stato, riuscire a garantire i servizi della sanità, tutti, a prezzo di costo e facendosene carico. Cioè, quello deve essere una voce della spesa pubblica in totale. Cioè, non ci deve essere margine di profitto, perché non è il profitto che lo paga la povera gente o comunque tutti gli altri cittadini, e questo non è consentito. Cioè, sarebbe proprio moralmente sbagliato. Poi posso fare, ho fatto l'esempio della sanità, potrei fare mille altri esempi. No, no, ma Diego, allora, il concetto è molto chiaro, però ti voglio fare un esempio, così poi chiedo anche a Fabio cosa ne pensa, che io so che Fabio, insomma, è per la visione di Stato minimo. Quindi, chiaramente, vai in una posizione diametramente opposta alla tua. Però, per tornare alla nostra quotidianità, no? Giulio, mi fai vedere un attimo l'immagine? È una delle ultime che giravano ancora oggi, adesso non so da quale... Eccolo qui. Queste sono le notizie quotidiane. Cioè, multinazionali, in questo caso mi pare, forse, non mi ricordo se è francese, non me lo ricordo, non sono sicura, non lo ricordo in questo momento. Comunque, altra azienda di prestigio, che è la Technicabel, a questo punto verrà acquisita. E queste sono le notizie quotidiane. Quindi, la domanda... Grazie Giulia, possiamo anche tornare a noi. Mi sembra sia chiara. Vai Tiziano. Beh, io farei una premessa dicendo, qualificando un pochettino la mia esperienza, che è quella di piccolo imprenditore da 50 anni sul mercato. Quindi, diciamo, per quello che riguarda l'economia reale, ho una, almeno a livello di tempo, una discreta esperienza. E, ritornando a ritroso, pensando ai vari cicli economici, posso dire, storicamente, che quando l'economia andava bene, lo Stato faceva il suo lavoro. Quando l'economia andava male, o ha cominciato ad andare male, è perché lo Stato non era più presente. Noi lo vediamo, non so, voi siete tutti, fortunatamente, molto più giovani di me, ma io mi ricordo i tempi, gli anni 70, poi gli 80, quando lo Stato sosteneva l'economia, sosteneva le aziende, mutui a tasso agevolato per le aziende, c'era il fondo perduto, opere infrastrutturali in tutta Italia, a man bassa, autostrade, gallerie, una cosa eccezionale, e il debito pubblico era sotto il 60%. Il rapporto debito-pil, che è una cosa diversa dal debito pubblico inteso in valore assoluto, che deve sempre crescere. Il debito pubblico in valore assoluto deve sempre crescere, perché noi sappiamo che quello che è considerato impropriamente debito pubblico non è altro che la somma dei deficit di uno Stato, deficit di bilancio che annualmente uno Stato fa. e si traduce in sostanza in moneta che circola nell'economia. Quello chiamato, ripeto impropriamente, debito pubblico corrisponde quasi alla virgola alla moneta in circolazione. Ridurre il debito pubblico, non il rapporto debito-pil, ma ridurre il debito pubblico come valore globale è una grossa sciocchezza. Ritorno e chiudo velocemente sul concetto di Stato, lo Stato ha un ruolo importante, ha tre azioni fondamentali. La prima, ovviamente non riguarda noi, paesi dell'Eurozona, perché siamo in un limbo criminale che ci ha tolto ogni strumento per poter salvaguardare e curare e sostenere la nostra economia. Noi siamo destinati ad essere saccheggiati, i salari saranno destinati a continuare a diminuire, perché tutti sappiamo che noi che abbiamo studiato un po' sappiamo che non potendo con una moneta unica, un'economia diversa, per confessare gli squilibri, non potendo svalutare la moneta, bisogna svalutare i salari. E così è stato. L'Italia aveva i salari più, aveva il debito pubblico più alto e oggi c'è i salari più bassi, perché è quello che è stato costretto a rispettare le regole, chiamiamole regole di austerità, più di ogni altro. Quindi concludendo, politica monetaria, politica fiscale, agevolazione, aziende, riduzione, aumento delle tasse, eccetera, e dettare le regole del gioco, perché il mercato libero è fondamentale, il mercato libero non può arrivare alla piena occupazione, se non ci sono delle regole precise che tutelino la concorrenza, che tutelino tutto quanto, non può rendere il mercato una giungla dove noi vediamo a livello mondiale il più grande mangia il più piccolo. Detto questo, mi fermo e poi ascolto anche le opinioni degli altri. Grazie. Grazie Tiziano. Io sentivo borbottare Alberto e Fabio. Non è vero, non è vero. E quindi adesso secondo me mi sento. Così potete dire tutto quello che pensate a lei una volta. Vai, vai, vai. Non è vero, non è vero. Stavolta funziona il microfono. Allora, dicevo che appunto parto da come cultura, da quella dell'uomo fare proprio le sue, quindi non può essere certo una cosa collettiva. poi nel tempo, sin dal liceo, insomma, da ragazzo al ginnasio ho avuto idee liberali, erano tempi duri, avevano in settanta se provavi a affiatare gli schiavi della spranga, anzi la chiave inglese in quel caso, e quindi insomma non è stato un buon vivere quello. Comunque ho imparato delle cose nel frattempo, nel frattempo sono cresciuto e ultimamente sono arrivato alla conclusione di essere un liberal conservatore nella scia di Thatcher e un po' di Reagan. Io, parlare di stato, ovviamente sono un minarchico, quindi stato minimo, proprio perché è l'individuo che deve prevalere. Deve riuscire ad essere lui con le sue capacità a portare un contributo alla comunità. Del resto, io non seguo il calcio, però a questo concetto ci arrivo anch'io, ma ci arrivo a chiunque. Se ci fosse una squadra di calcio, quello che volete, a me non interessa, Milan, Juventus, Inter, che potesse fare, decidere le regole, nominare gli abiti e poi giocasse, vi piacerebbe? Non credo. E lo stesso è lo Stato, lo Stato deve fare le regole del gioco, ossia di come devono funzionare le cose, deve controllare in maniera molto seria che queste regole vengono applicate, ma non deve e non può fare il giocatore, perché sennò va a interferire nell'economia con i risultati che vediamo. Perché con le idee socialiste abbiamo avuto, per esempio, le auto elettriche che si vendono solo, si sono subvenzionate, il che vuol dire che i prodotti per sé non è valido e lo si compra solo. Chi, e ciò dice comunque, ce li avrebbero da comprarla, a danno degli altri, che è la comunità che contribuisce, però non funziona una cosa. Perché appena finiscono gli incentivi, buono atti i suonatori, perché è un prodotto che non è adeguato all'esigenza delle persone, perché è il mercato che comanda, non un burocco a Bruxelles. Quindi, parlando alla cosa iniziale, io distinguerei tra Magneti Marelli e Comau, perché oggi mi sono un po' lavorato un po' a documentare. Il concetto è che normalmente, quando si dice che si vuole trovare capitali esteri per aiutare l'economia italiana, questo significa anche che le aziende che vengono qua comprano anche aziende italiane, se no la cosa non funziona. Dovebbe essere una cosa ovviamente bilaterale, quindi anche le aziende italiane vengono a comprare all'estero, accade questo, ma è misura minore, ma questo perché è il problema del sistema Italia che non funziona. perché non ci sono le leggi, ci sono troppe leggi, ci sono troppe regole, troppi controlli, il rispetto finanziario è non adeguato, e quindi non c'è l'humus per far crescere le aziende. E quindi è difficile per queste aziende, inizialmente, campare, e poi riuscire ad andare all'estero a fare quello che fanno le aziende estere che vengono in Italia. Magneti Marelli era una cosa che, per quello che fa, va bene, neanche si vede venduta, no? Per quanto riguarda invece Comaos, è andato a vedere, c'è anche una parte dell'aerospaziale, che poi invece potrebbe essere un tema più delicato. Quindi, in quel caso, forse il Golden Power potrebbe essere esercitato dal governo. Detto da noi, perché bisognerebbe vedere cose nel dettaglio per capire se ovviamente questa cosa ha senso oppure no, perché il fatto che si occupa dell'aerospaziale, della robotica aerospaziale, suona bene, ma è una cosa importante, è una cosa importante. Quanto può influire su certe dinamiche geopolitiche, piuttosto che su dinamiche economiche e sull'Italia? Non sono in grado di giudicarlo, ma credo neanche voi. Quanto a Garenda, vabbè, non voglio finire in galera, quindi non dico cosa penso di lui. O meglio di noi, diciamo le querelle, ne ha fatto come un chisciotte. No, però, insomma, era interessante il punto, no? Cioè il liberale che non può difendere l'anarchia assoluta, no? Cioè l'appropriazione. Era un tema, secondo me, che valeva la pena di discutere. Infatti si vede, insomma. Comunque grazie Fabio, perché tanto adesso, dopo facciamo un altro giro. Perché alla fine, e passo naturalmente a Giampaolo, così chiude il primo turno, diciamo il primo giro, mi resta però sempre la domanda su quello che effettivamente si potrebbe fare, non so se a livello legislativo, non lo so, facciamoci venire delle idee, su quello che effettivamente si potrebbe fare per evitare questo disastro, perché secondo me è comunque un disastro, io non credo che si possa essere contenti del fatto che le aziende anche storiche italiane vadano in mano agli stranieri. Scusate, ma qui la patriota è fuori in maniera molto chiara. Cioè per me non è accettabile, ma questo è il mio punto personalissimo di vista. Giampaolo, tu che cosa ne pensi? Sì, allora, innanzitutto, non sono d'accordo in generale con l'idea del fatto che sia il mercato a decidere, ma semplicemente per un motivo. perché in realtà il mercato non è un agente neutro. Cioè c'è una frase molto interessante che è stata pronunciata da Roosevelt e che è stata poi ripresa anche dall'onorevole Ghidini nei verbali del Costituente nel 1947, che sostanzialmente spiega proprio il concetto secondo cui una ridistribuzione delle ricchezze operata da un mercato lasciato libero a se stesso porta inevitabilmente ad arricchire determinati soggetti e questo arricchimento trasforma quel potere privato in potere politico che si traduce in potere di azione anche a livello geopolitico. E infatti io non farei un riferimento all'Europa e ai burocrati europei come Stato perché quelli in realtà sono soltanto degli esponenti di lobby private che fanno capo dei mercati e gli interessi di quei personaggi chiaramente non matchano con la maggioranza della popolazione, matchano con un certo quantitativo della popolazione. Quello che credo è che lo Stato italiano è stato probabilmente, da un lato è stato politicamente incapace di gestire una serie di situazioni complici tutta una serie di questioni geopolitiche anche perché è stata tirata dentro all'Unione Europea se vogliamo anche come ricatto. Ma da un lato c'è anche il discorso che l'Unione Europea ha costretto l'Italia attraverso una serie di provvedimenti di natura ordo liberale, se vogliamo, che non calzavano assolutamente con le prerogative di uno Stato come l'Italia ha costretto il Paese a dover prendere delle decisioni di un certo tipo, tra cui anche tutta la serie di privatizzazioni d'anni 90 con lo scopo dichiarato che poi magari non è coinciso con l'intento effettivo, con lo scopo dichiarato di ridurre il debito pubblico. Quindi quello che vedo io è che uno Stato ridotto ai minimi termini è proprio la radice del problema. Lo Stato non deve intervenire massicciamente in economia perché il privato deve avere lo spazio d'azione, però allo stesso tempo lo Stato non può essere messo completamente da parte perché se è vero che le persone sono chiamate a dare il loro contributo utile alla società è anche vero che non è che la vita vada meritata e quindi chi non è in grado di farlo non viene messo nelle condizioni di farlo e morire. Cioè non siamo in una condizione di leggere più forte, ecco questo voglio dire. Perlomeno non dovremmo esserlo. Va bene Gian Paolo, sai qual è il punto vero? E io qui ve la lancio. Abbiamo dieci minuti, vi chiedo veramente, due minuti a testa, vi chiedo questo sforzo ma vorrei risentire tutti. Allora secondo me il punto è che secondo una certa visione di una parte di noi qui di Stato ce n'è poco. Cioè non interviene dove dovrebbe intervenire e non fa quello che dovrebbe fare. Cioè normare, controllare, tutelare, ok? Conservare anche per certi versi. Dall'altro c'è una parte di noi di cui appunto sicuramente Alberto e Fabio sono i rappresentanti che ritengono, Alberto dimmi se ho capito male, che forse di Stato ce n'è fin troppo. Cioè secondo me tu parti da un punto di vista completamente diverso. Ma il problema è che ci sia poco Stato o molto Stato. Come la risolviamo questa questione della svendita costante di aziende italiane? Cioè qual è alla fine secondo te la vera soluzione, al di là di tutte le nostre belle idee che ci piace anche tanto, insomma, divulgare, studiare, è tutto fantastico. Ma in effetti, al concreto, che si fa? Che si dovrebbe fare? Ma guarda, la risposta di un liberale vero, non un vero liberale, perché i veri liberali sapete chi sono e come vengono definiti. Uno di questi è Carlo Calenda. Ma i liberali veri, cosa dicono? Innanzitutto, ho sentito molte voci, diverse voci, patrocinare la presenza ancora più massiccia dello Stato nell'attuale situazione in cui ci troviamo. Allora, ciascuno può avere le opinioni più diverse, però, di fronte ai numeri, credo che nessuno possa, diciamo, negare la realtà di fronte a certi numeri. Noi abbiamo attualmente un debito pubblico che è pari circa al 140% del PIL. È vero, perché qualcuno ha detto, ma poi non è così importante. È vero, non è che sia un dato assolutamente importante. Questo comunque, siamo al 140% del PIL. Ma la cosa più importante è la spesa pubblica che noi abbiamo. Allora, nel 2022 la spesa pubblica sul PIL, se non vado errato, ha raggiunto il 57-58% del PIL. Cioè, vuol dire che lo Stato, credo che sia un qualcosa di mai raggiunto precedentemente, forse nel periodo bellico del 40-41 e forse nel 1914-16-18 siamo arrivati a quei livelli. Ecco, ma il 56-57% del PIL non si è mai visto. Quindi, questo è un numero davanti al quale anche i sostenitori più accaniti della presenza dello Stato non possono negare che lo Stato sia enormemente presente. Osservo anche che negli ultimi 12 anni, cioè dal 2012, da quando un certo professor Mario Monti è salito, diciamo, è stato, come dire, ha esercitato il suo mandato come Presidente del Consiglio, si è verificato il più grande trasferimento di risorse in termini di tassazione dal settore privato al settore pubblico mai accaduto nella storia di questa Repubblica. Quindi, lo Stato, secondo me, c'è ed è troppo. E la soluzione qual è? È molto semplice, ci vuole meno Stato. Perché? Ci vuole meno Stato perché liberando risorse ai privati, i privati possono investire, destinare le risorse agli investimenti propri per raccogliere possibilmente al meglio le opportunità del mercato avendo successo o fallendo a seconda delle circostanze ma comunque in un sistema efficiente. La storia dimostra che quanto più risorse invece si danno allo Stato lo Stato le spreca perché visto la quantità di risorse che lo Stato italiano ha incassato dal 2012 a oggi rispetto a tutti gli anni precedenti avrebbe dovuto consentire grazie anche alle amorevoli pure dell'Europa che come abbiamo visto non è per niente amorevole ma anzi è matrigna e ha diciamo in qualche modo poco sorvegliato i conti italiani o quando li ha sorvegliati li ha sorvegliati indirizzando verso una maggiore presenza dello Stato e non verso una riduzione il nostro problema era troppo Stato non troppo poco Stato ed è per questo che ci troviamo in questa condizione quindi la mia risposta è questa la mia preoccupazione è tutto sommato limitata circa il fatto che vengano acquistate aziende italiane da stranieri perché come giustamente è stato detto da Fabio ci sono anche aziende italiane che comprano all'estero probabilmente il bilancio non è a nostro favore ma perché non è a nostro favore perché le condizioni che noi abbiamo in questo paese purtroppo tutti noi tutti quanti noi professionalmente per una ragione o per l'altra siamo confrontati quotidianamente con la realtà italiana che è deteriorata moltissimo in termini di servizi pubblici giustizia sanità e tutto questo crea un ambiente estremamente sfavorevole agli investimenti al di là e comunque di ogni altra considerazione quindi questa è la mia opinione ci vuole meno Stato con meno Stato andremo tutti meglio Massimo grazie Massimo non ti sento sai Massimo adesso mi senti? sì allora è vero che la spesa pubblica non è bassa ok però intanto dobbiamo confrontarla con quello di altri stati a noi paragonabili e se andiamo a vedere quello sia per quanto riguarda la sanità che per quanto riguarda l'istruzione e tutta una serie di servizi pubblici siamo sotto le medie europee ma quello che è più importante da capire è che questa spesa pubblica nella realtà viene dirottata verso i privati ok prendiamo la sanità visto che abbiamo citato Monti da quando c'è stato Monti la sanità ha perso un botto di posti letto per esempio siamo passati dai dieci posti letto a tre posti letto ok la Germania ne ha ancora dieci di posti letto la Romania mi sembra che ne abbia sette e otto ok per centomila abitanti quindi dove sono finiti questi soldi? sono finite non tanto nelle inefficienze del privato il privato può essere efficiente o inefficiente come esattamente il pubblico perché dipende dalle persone sono le persone che rendono un'azienda efficiente ed efficace ma sono finiti all'interno dei sistemi lobbistici ok quindi la sanità privata sta arricchendosi dando sempre meno servizi faccio un esempio il servizio del pronto soccorso all'inizio gli ospedali privati non lo davano in assoluto perché? perché è un servizio che chiaramente è poco efficiente ok ti arriva uno che sta morendo lo devi ricoverare in ospedale ti sta magari in ospedale 50-60 giorni occupa il posto letto per 50-60 giorni da lì tutte le statistiche i famosi numeri che però bisogna sapere anche leggere e interpretare che dicevano che il servizio pubblico della sanità era inefficiente rispetto al servizio pubblico privato perché si andava a vedere quanto costava un posto letto nel settore privato che si occupava solo delle patologie ad alta redditività e lo si confrontava con un servizio pubblico che doveva colmare anche questo gap per tutti i servizi invece che non erano diciamo ad alto valore aggiunto se vogliamo parlare in termini aziendali questo non mi sembra corretto ok quindi la soluzione per me non è avere più o stato o meno stato è fare in modo che lo stato riesca a intervenire e qua ci vogliono le persone giuste affinché i servizi essenziali vengano garantiti al giusto prezzo faccio un esempio ancora quello del 110% il 110% è stato fatto male non era sbagliato in sé ma è stato fatto molto male ok doveva essere fatto molto meglio perché il 110% ha fatto lievitare i prezzi ok perché è stato fatto male ok ma perché è stato fatto male perché lo voleva lo stato fatto male o lo volevano piuttosto le lobby è questo che dobbiamo chiederci cioè le lobby quanto incidono sulle decisioni di uno stato che ormai funziona come un'azienda le aziende cioè io ho sempre vissuto nell'azienda e nell'azienda non è che non c'è corruzione che non ci sono interessi privati dei manager eccetera ci sono quindi sono le persone quelle che fanno la differenza non è tanto il più stato meno stato e poi bisogna appunto interpretare bene i numeri perché lo stato è vero che spende tanto in certi settori ma spende per dare ai privati non facendo i controlli cioè ragazzi quando siamo passati dalle autostrade gestite dallo stato alle autostrade gestite dai Benetton è stato un disastro alla fine ce ne siamo accorti dopo qualche decina di anni che è stato un disastro o no perché quando le ha riprese in mano lo stato non ci si poteva muovere sulle autostrade io sono uno che va in giro c'erano lavori su tutti i ponti perché erano tutti a rischio crollo quindi il privato che è bello è una e merita Fandonia mi spiace perché il privato fa i suoi interessi c'era qualcuno che voleva intervenire faccio fare il giro poi dopo se mi consenti un secondo da una risposta assolutamente sì Diego volevi dire qualche cosa grazie Massimo è sempre chiaro come vai Diego parlando sempre da statista quindi è stato minimo che però anche se per minimo deve comunque funzionare come ha detto anche Alberto io diciamo come soluzione direi che bisogna ovviamente agire a livello legislativo cioè bisogna fare normare affinché le cose cominciano a funzionare per esempio non vendere per non vendere le aziende devi fare una cosa alla pari con gli altri stati cioè non vendere le aziende ad altri stati ad altri comunque altre aziende di altri stati la situazione come si può ben immaginare è particolare nel senso che deve essere comunque reciproca cioè se tu vuoi che le tue aziende non vadano all'estero non devi andare a comprare le aziende all'estero negli altri stati sostanzialmente non so se mi spiego quindi devi andare ad agire su frenare la circolazione dei capitali a livello internazionale perlomeno per quanto riguarda il comprare e vendere aziende oppure se non fai dei favoritismi quell'azienda sì quella no dipende dai calcoli della persona che sta in quel momento al governo cioè una cosa che non dà molta certezza al privato immagino una cosa di questo tipo quindi magari bisogna fare delle norme che valgono per tutti per tutte le aziende certe semplici così almeno anche i privati si possono regolare perché se no cioè lo stato fa delle norme assurde illegibili e la persona il privato fa sempre la figura del pirla perché non sa capire quello che c'è scritto perché è illegibile effettivamente però poi si prende si prende tutti i rischi mostruosi mostruosi anche delle spropriazioni se le cose vanno male oppure del fallimento addirittura invece per far sì che uno stato funzioni bene bisognerebbe intanto andare a detassare il lavoro brutalmente cioè il lavoro non deve essere tassato punto e neanche i consumi vanno tassati secondo me la statista i consumi non vanno tassati l'unica tassa che ci dovrebbe essere per far funzionare le cose in maniera semplice è tassare al massimo il reddito annuo basta fai una tassa unica sul reddito annuo e le cose funzionano per tutti molto semplicemente cioè io vorrei vedere un datore di lavoro che gli dice guarda tu non devi pagare nessuna tassa tranne quella sul reddito lo stipendio netto del lavoratore sarà praticamente uguale a quello lordo la pensione non ci deve essere nel senso che non ci deve essere nessun diciamo pagamento anticipato per andare ad accumulare la pensione perché la pensione la può tranquillamente dare allo Stato senza che ci sia un anticipo da parte dei lavoratori o delle aziende non c'è nessun da punto di vista proprio economico dello Stato non c'è assolutamente nessun problema da questo punto di vista così come si pagano i medici si possono pagare anche le pensioni quindi devi rilassare il lavoro vai magari a limitare la competizione fra Stati nella compravendita delle aziende va bene anche comprare i prodotti altrui ma magari evitare di andare a creare diciamo fastidi con altri Stati perché alla fine è questo che si rischia si rischiano frazioni e divisioni con altri Stati questo non è al massimo degli interessi per il bene delle due popolazioni tra Stati quindi magari evitare di andare a rompersi le palle a vicenda sposate il francesismo e magari puntare su un rapporto economico meno predatorio però sicuramente andare a detassare alcuni aspetti perché lo Stato lo può fare certo ma certo assolutamente Tiziano da imprenditore cosa ne pensi? ma da imprenditore ma anche da così appassionato di macroeconomia vorrei ricordare che la vera ricchezza di una nazione è la capacità di produrre che la nazione stessa ha che il popolo ha di produrre beni e servizi quella è la vera ricchezza quindi tutti quelli che vanno a investire all'estero è un potenziale perso lo straniero che viene a vestire da noi è un potenziale perso perché gli utili se li porta fuori e non dà la minima tutela e garanzia a quelle che sono le aziende che vengono acquistate abbiamo visto storicamente che le acquistano le svantellano si portano via il know out e così via e vanno a produrre nei paesi dove c'è un costo molto più basso anche se stiamo diventando competitivi perché i nostri salari non crescono da 30 anni e siamo gli unici al mondo quindi partendo dal presupposto che la ricchezza è data dal nostro lavoro che nel mercato libero è scientificamente dimostrato che ci sono per forza non si possono annullare sacchi di disoccupazione lo Stato uno Stato che funziona che è titolare di una propria valuta e che la può emettere alla bisogna per creare lavoro non per fare assistenzialismo può arrivare alla piena occupazione più gente lavora e più ricchezza si produce quello è lo spreco il vero spreco in un paese è la disoccupazione un'altra cosa un altro concetto importante è che lo Stato non deve mai entrare in competizione con il settore privato questo è ovvio lo Stato ha un ruolo complementare assolutamente complementare con le giuste regole e io le ho vissute con le giuste regole c'è tutto lo spazio per sviluppare il massimo potenziale del settore privato oltre il quale i disoccupati che rimangono strutturalmente potrebbero essere con piani di lavoro garantito da parte dello Stato il piani di lavoro garantito è una fa parte della dioratoria economica che io e noi stiamo seguendo ormai da anni perché riteniamo che dia una chiave di lettura dell'economia molto efficace e quindi lo Stato ha un ruolo fondamentale concludo dicendo che lo Stato dov'è che è importante la sua presenza nei settori strategici per cui le svendite che abbiamo visto adesso non solo sono una perdita economica sono un tradimento verso lo Stato italiano la distruzione del gruppo Ieri il quinto gruppo industriale più grande del mondo dove il 97% dei brevetti che utilizzavano tutte le grosse imprese le grosse avviende del gruppo Ieri erano creati erano prodotte all'interno del gruppo era un mostro di bravura con un indotto nel settore privato eccezionale ora nei settori strategici e nei settori dove il profitto non è garantito settori ricerca settori dove ci sono investimenti a lungo termine di rientro del capitale lo Stato e solo lo Stato lo può fare perché anche solo lo Stato che può lavorare in passivo ovviamente parliamo di uno Stato di moneta sovrana concludo dicendo concludo dicendo concludo dicendo che lo Stato è un pilastro fondamentale uno dei due pilastri fondamentali e l'altro il settore privato e deve intervenire dove non si può e non si deve fare profitto come sanità scuola infrastrutture e così via grazie grazie allora io volevo se era possibile abbiamo veramente abbiamo sporato ve lo dico già però chiudiamolo insomma perché è il dibattito interessante quindi però magari lo chiudiamo nel giro di pochi minuti però volevo sentire Fabio se ha qualcosa da ribadire Alberto anche che voleva dire qualche cosa anche rispetto a quello che ha detto Massimo e poi volevo lasciare a Giampaolo la chiusura quindi prego Alberto e Fabio o Fabio Alberto solo Fabio solo Albert come volete voi sì mi sentite sì ma io volevo rispondere credo a Massimo il quale dice no ma il problema non è la spesa pubblica non è il debito pubblico ma è la qualità di questa di questa spesa e soprattutto il fatto che comunque questi soldi questo questo enorme quantità di denaro comunque va a beneficio di privati ha fatto certi esempi e così via ma io sono d'accordo in questa analisi purtroppo è così perché quando lo Stato è troppo ingombrante si verifica quella come dire c'è quella sorta di patogenesi quella sorta di patologia del capitalismo che si chiama chronic capitalism in cui moltissimi privati chiaramente con le spalle ben larghe sanno benissimo che lo Stato elargisce fondi a destra e manca e si adoperano per esercitare influenza sullo Stato per ottenere favori ottenere i Benetton sono stati un esempio per l'autostrada ma è stato evocato il 110% che è stata una misura sciagurata che è costata un sacco di soldi ma evidentemente qualcuno avrà sussurrato nell'orecchio del governo giallorosso perché questo è il governo che porta la responsabilità di quella sciagura ci sono stati sicuramente imprenditori interessati così come ci sono a livello europeo imprenditori interessati a cavalcare l'onda di questa transizione energetica sull'onda di questo catastrofismo climatico e ci sono tantissime persone che ci stanno guadagnando perché sanno che gli stati investono su questa cosa quindi è proprio la eccessiva presenza dello Stato e la sua voracità nei confronti del privato sotto il profilo della tassazione che induce molti privati non perfettamente in buona fede a cercare di sfruttare lo Stato per ottenere le benefici attraverso queste formule come si è visto che ho citato prima era solo questo che volevo dire a Massimo da parte mia non so se ma Fabio voglia aggiungere qualcosa bene avrei funzionare non è tutto in un'altra volta avrei dai parlo col tuo sì allora che dire ci sono tante cose che mi venivano in mente mentre ascoltavo ma ripetere tutte adesso è più complicato allora un attimo dove è che avevo visto qua allora il fatto è che lo Stato diciamo non è dovunque porco dov'è la cosa che sto cercando che non sia nel denaro che le persone si guadagnano se lo Stato vuole spendere di più può farlo solo sprendendo a prestiti i vostri soldi per sparmi o tassandovi di più oppure indebitandovi non serve niente pensare che qualcun altro pagherà questo o qualcun altro siete voi non esiste una cosa chiamata denaro pubblico ci sono l'ordinario dei contribuenti Margaret Thatcher e questo si traduce anche nel quotidiano siamo tutti qua che ci lamentiamo per i servizi inefficienti e paghiamo solo i tasse ma allora siamo deficienti siamo masochisti perché è evidente che la cosa non funziona e quindi bisogna mollare lo Stato io voglio benessere i miei 5 cittadini vorrei che tutti quanti stessero meglio e forse più felici perché anche questa cosa qua fra l'altro se si ha una prospettiva per il futuro anche l'analità magari sale perché secondo me c'è una relazione sarebbe interessante fare uno studio tra l'aumento dello Stato l'aumento delle tasse l'aumento del socialismo che è in italiano e la diminuzione dell'analità secondo me c'è un rapporto a di là poi della cultura che ovviamente è cambiata nel tempo e quindi anche questo è influito ovviamente la sanità ragazzi volete evitare che lo Stato guadagna che un guadagna la sanità sulla scuola benissimo facciamo delle ONUS ma dividiamo chi paga i servizi e chi lo eroga in modo tale che ci siano conflitti interessi e che quindi chi paga cioè lo Stato controlli controlli quello che viene fatto dal punto di vista fiscale dal punto di vista finanziario cioè se io ho una scuola la scuola deve controllarla come insegna che cosa insegna se l'edificio viene giù è affaticiente oppure sta in piedi se dal punto di vista finanziario la cosa è gestita correttamente perché io devo offrire un servizio decente agli alunni e i costi non saranno superiori perché se noi diamo un bacio alle famiglie che è equivalente a quello che costa verso ciascun alunno a seconda del regalo di scuola saranno poi i genitori andranno a scegliere la scuola che ritengono migliore quindi quelle scuole per avere alunni dovranno offrire il massimo possibile per poter avere alunni e quindi stare in piedi il concetto la sanità è incompattate a parte che abbiamo un monopolio dell'Inps questa è una cosa che non esiste perché se ci fosse concorrenza i costi si venderebbero e sarebbero anche più efficienti e poi abbiamo un esempio anche in Svizzera la Svizzera è sostanzialmente di riposizione al primo e secondo posto ma è una struttura mista con una prevalenza del privato però nessuno finisce tutti i punti a morire perché nelle fasce più deboli il predio verifica non come da noi che si danno le cose alla cacchio come le leggi di cittadinanza e quello permette di verificare se le persone hanno difficoltà e a quel punto è il cantone quindi attenzione il cantone non lo Stato sempre una cosa più piccola perché la cosa bella della Svizzera a parte ha una costituzione veramente liberale e non cattocomunista come la nostra e questa è una grande differenza che lì è il cittadino che viene difeso e non lo Stato perché se la legge è l'unica soluzione al mondo che io sappia in cui lo Stato viene difeso dal cittadino è una cosa assurda perché le costituzioni sono nate invece per lo Stato contrario per limitare lo Stato Magari Fabio ne parlerò anche questo è un argomento secondo me molto interessante adesso dobbiamo per forza chiudere grazie perché secondo me hai detto un sacco di cose sulle quali potremmo stare ore e ore secondo me onestamente però chiedevo a Gianpaolo a questo punto di chiudere di chiudere un po' alla luce di tutto quello che anche ha sentito ma allora secondo me il discorso si può riassumere nel fatto che comunque la tecnologia a livello tecnologico la produzione le industrie rappresentano nei fatti una delle parti fondamentali sia dell'economia di uno stato sia in generale della società voglio fare un esempio che ho vissuto ho toccato con mano perché sono stato decente a lavorare in Corea del Sud e non ho potuto fare a meno di fare una serie di confronti cioè la Corea del Sud secondo me è un paese molto molto simile all'Italia e adesso mi spiego il perché dopo guerra noi abbiamo avuto un cospicuo aiuto dagli Stati Uniti esattamente come avvenuto in Corea in Corea hanno avuto cioè hanno adesso come noi abbiamo avuto in passato una valuta sovrana e in questo momento lo won vale 1600 cioè un 1600 di euro quindi come valore siamo più o meno come è la lira adesso con l'euro 1936 27 contro 1600 in Corea c'è un c'è stato un forte sviluppo industriale negli anni 60 che man mano è andato scemando anche se continuano a crescere abiritmi che noi in Europa non possiamo raggiungere la differenza sostanzial ah altra cosa la Corea esattamente come l'Italia è un importatore di petrolio quindi diciamo da questo punto di vista non è neanche avvantaggiato un attimo la differenza sostanziale è che in Corea i comparti strategici dell'industria sono stati nazionalizzati o meglio sono sempre stati nazionalizzati e questa struttura permessa a quei comparti se da un lato ha se vogliamo monopolizzato quella 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 del mercato in realtà è proprio quella la forza della Corea tant'è che il tasso di occupazione in Corea è praticamente da disoccupazione del 2% inflazione al 2% quindi c'è il paradiso di qualsiasi economista una roba del genere non hanno non hanno problemi di altra natura crescono quasi al 3% anzi crescono al 3,3% se non sbaglio e noi siamo allo 0% il discorso è quello cioè lo Stato deve essere tutore di una serie di cose e deve tutelare sì l'individuo però deve per farlo deve anche mettere un certo numero di paletti a chi poi viene e viene a fare shopping nel paese perché per esempio Hyundai che è il più grande colosso della Corea è uno dei più grandi colossi al mondo e adesso è Hyundai che va in giro e fa shopping tant'è che Boston Dynamics società americana di intelligenza artificiale robotica è stata comprata da Hyundai e quelle sono tutte aziende che in realtà vivono perché è lo Stato che le gestisce non sono gestione privata e quindi con questo quadretto direi che si aprirebbero un sacco di altri orizzonti di discussione ma non abbiamo purtroppo più tempo io ringrazio tutti quanti sono venuti fuori delle cose molto interessanti io spero che Alberto e Fabio tornino a parlare un po' di questa questione io vorrei parlare proprio del tema la Thatcher perché Fabio è appassionatissimo anche di questo tipo di discorsi e noi in realtà anche perché è un personaggio per noi abbastanza controverso però interessantissimo vi ringrazio purtroppo il tempo è già finito io in realtà mi stavo divertendo molto ad ascoltare tutti voi molto interessante niente ci vediamo alla prossima spero di ritrovarvi tutti grazie grazie molte buona serata ciao a tutti grazie ciao a tutti